Rinnovata la convenzione fra la compagnia assicurativa Conte.it e il Comune di Napoli per il progetto RCA Napoli Virtuosa che consente ai cittadini napoletani di pagare tariffe scontate per la polizza RC Auto. Col nuovo accordo lo sconto sulle tariffe vigenti passa dal 20 al 30%, aumentano i servizi offerti e si allarga la platea dei cittadini che possono accedere alle tariffe convenzionate. Le novità sono che rispetto alla prima versione del 2012 la scontistica intanto è maggiore per il cittadino napoletano virtuoso quindi passa dal 20% al 30%, comprende anche il dispositivo satellitare, l'assistenza stradale e il nostro servizio di officine convenzionate. Attualmente le tariffe assicurative variano in base alle regioni e ai territori. Così accade ad esempio che a Napoli anche un cittadino che non ha fatto mai incidenti e si trova in prima classe deve pagare una tariffa molto più elevata rispetto ad altre città italiane. Un'opportunità che noi rinnoviamo ai cittadini napoletani per abbattere e ridurre una discriminazione palese che si consuma giorno per giorno, ovvero a parità di condizioni un cittadino napoletano paga tre volte tanto la stessa assicurazione rispetto ai cittadini che abitano in altri paesi della nostra Repubblica. Pertanto un'offerta di condizioni migliori oggi per i cittadini virtuosi contemporaneamente una battaglia politica che il Comune di Napoli ha avviato e che intende portare avanti per avere una norma legislativa che finalmente ponga la parola fine ad una discriminazione inaccettabile. Tutte le informazioni sulle polizze di RCA Napoli